E' stato portato a termine con l'inizio dei lavori il 2 novembre e la fine dei lavori il 20 novembre, quindi in 18 giorni che hanno costituito certamente un disagio per gli abitanti di Pietra Mogolana, però è stato portato a termine un ottimo lavoro fatto sulla strada che da Casa e Pesci porta a Pietra Mogolana. Un vecchio tombone in ferro era completamente marcito e c'era praticamente sprofondata una parte di strada. Grazie all'intervento dell'autocamionale della Cisa è stato ripristinato con uno scatolare in cemento, è stata fatta un'ulteriore scarpata scogliera in sasso per evitare l'erosione di questo rio ed è stata allargata anche la strada notevolmente. Al momento manca solo la posa del guardrail e quindi la strada non appare così larga essendoci in New Jersey come sarà poi in modo definitivo. I lavori di ripristino dell'asfalti inizieranno a fine primavera e inizio estate che permettono così l'assestamento necessario per tutto il materiale che è andato a costipare questi scatolari in cemento. Quindi è migliorata notevolmente la viabilità almeno in quel tratto di strada cosiddetto della Madonnina. Occorre precisare per dovere di cronica che i finanziamenti sono giunti appunto dalla 15. Sì, sono stati lavori direttamente come dicevo fatti dall'autocamionale che ringrazio anche per il buon lavoro fatto.